Un partare di studenti degli istituti superiori al Teatro Sibaris per la seconda edizione della Fiera Sociale del Libro, manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Castrovillari. Tema conduttore di questa seconda edizione, diretta da Marco Gatto, realizzata con l'apporto di un validissimo gruppo di lavoro e con il sostegno dei responsabili istituzionali locali per la pubblica istruzione Giuseppe Russo e per le attività produttive Nicola Digerio, è ricostruire la comunità. I giovani di Castrovillari incontreranno uno dei più grandi intellettuali italiani che è Goffredo Fofi che risponderà alle loro domande e appunto parlerà sul tema educare oggi. In un tempo in cui i giovani, le giovani generazioni in generale sono diseducati dai media di massa e da tutta la barbarie culturale che ci circonda, oggi è necessario educare alla resistenza e Goffredo Fofi intratterrà proprio la platea su questo tema. Siamo d'altra parte convinti che una fiera del libro non possa essere semplicemente uno spazio espositivo ma un luogo di incontro fra intellettuali, società e soprattutto scuola, soprattutto giovani perché sono loro il vero destinatario della cultura. Presente all'incontro con gli studenti una delle voci più significative e alte della cultura italiana, Goffredo Fofi, il saggista, critico, cinematografico, teatrale e letterario. Professore, quanto sono importanti iniziative della genere per far avvicinare i giovani alla lettura, a riscoprire la voglia di leggere? Io direi che più che la voglia della lettura dovrebbero servire a ridare il gusto del pensiero, del ragionare perché oggi stiamo attraversando una fase delicatissima della storia del paese ma direi di più della storia dell'umanità perché c'è una mutazione in corso enorme di cui non sappiamo gli esiti, non sappiamo dove potrà portarci. E quindi è molto importante capire, pensare e ovviamente si pensa anche confrontando il proprio pensiero con quello degli altri e di quelli che ne sanno più di noi e quindi con i libri. E' solo che la difficoltà oggi sta nel fatto che di libri ce ne sono troppi. C'è troppa cultura, troppa informazione, troppa televisione, troppo internet, troppo tutto, troppa abbondanza di chiacchiere che spesso non promuovono il pensiero ma lo nascondono e servono soltanto per riempire il tempo libero, per divertire, per non far pensare. Ecco, la cultura dovrebbe servire a far pensare, ad aiutare soprattutto i giovani a ragionare su cos'è il mondo di oggi e quale può essere il loro posto nel mondo di oggi. L'antropologo Paolano Mauro Francesco Minervino, anche giornalista e scrittore, collaboratore con le pagine culturali di numerosi quotidiani italiani e stranieri. Leggere un libro significa necessariamente approfondire, qualche volta anche studiare ed è comunque un bel lavoro anche per chi studia, per i giovani. Naturalmente anche queste occasioni hanno la possibilità di mettere a fuoco anche temi che riguardano i luoghi, i paesaggi del nostro contemporaneo. Credo sia fondamentale mettere assieme livelli di ragionamento generale con aspetti specifici, particolari, che riguardano i luoghi, le comunità, le persone che vivono insieme a noi. Presente tra gli altri il giornalista Nicola Villa, ottimo redattore della rivista di educazione e intervento sociale Gli Asini. Come indirizzare i ragazzi? Su cosa leggere? Questo non lo so perché non sono un insegnante, però penso... Ma lei è giovane? Sì, penso che non devono essere i best seller o i prodotti culturali fatti apposta per loro come i libri tratti dalle serie o dai film. Ecco perché i giovani si avvicinano alla lettura soprattutto tramite i libri che raccontano il film che loro hanno già visto. Sì, penso che comunque il genere possa essere ancora oggi un ancora di salvezza, cioè il thriller, la colpa. Alla fine ci sono, Borges diceva, ci sono due trame, nella letteratura ci sono due trame. Il viaggio, che è l'Odissea e chi ha ucciso chi, Caino Abele, tornare ai fondamentali, diciamo. Il datore teatrale Saverio Laruina. Quando è stato importante per Saverio Laruina leggere per affermarsi poi a livello nazionale? A parte il fatto che non ci si afferma mai, come dire, è sempre un continuo provare, evoluzione, uno prova almeno a sviluppare delle cose. È fondamentale, fondamentale. Perché veramente ti dà consapevolezza in qualche modo del mondo. Altrimenti sei un po' in balia del mondo, delle cose, sei in balia degli altri e poi ti dà forse la possibilità anche di contribuire in qualche modo al miglioramento del mondo. E questo viene chiaramente moltissimo dalla lettura come da altre forme appunto espressive. Poi è chiaro che anche la lettura, anche il leggere può essere una cosa negativa se leggi male. Allora penso che queste invece situazioni in cui si riflette anche sulla lettura e si porta gente come Goffredo Fofi che presenta l'incontro con gli studenti stamattina. Allora è veramente un maestro spirituale che può un po' anche orientarti all'interno della lettura. Quindi devo dire anche queste presenze fanno capire che comunque chi ha pensato questa iniziativa l'ha pensata con una bella ambizione.